Amici miei bentornati sul canale per una nuova puntata Star Wars Jedi Fall Order e questa volta l'ho detto nel modo giusto perché nella scorsa puntata mi ero confuso con Star Trek e vi sto presentando Star Trek, gioco a cui comunque ovviamente non ho giocato e non è comunque questo. Comunque siamo arrivati all'albero delle origini e ora vediamo dove la mappa ci dice che dobbiamo arrivare. Qual è il nostro prossimo obiettivo? Arrampicati sull'albero delle origini. Ah ok no infatti dovevo andare di qua non mi dovevo arrampicare sull'albero delle origini perché già l'ho fatto. Secondo me devo andare a parlare con il nostro, cioè parlare ora, interagire con il nostro uccellaccio che l'abbiamo ribattezzato così io e Jayden. Gli diamo un altro passaggio. No! No! Uccellaccio! La nonna sorella, il terzo padre, com'era? Nonna sorella? Vuoi la decima questa? No! La nonna sorella sì. Vieni, vieni. Sì. Vieni, vieni. Ti faccio vedere io, nonna sorella, vieni. Ok. Sì, sì, subito. Nonna sorella sì. Ah! 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 Doloroso, eh. Pure questo è doloroso però, eh. Allora, quando diventa rossa dobbiamo evitare il colpo e questo è ben chiaro. Ah! Vieni, vieni. Dai! Vieni, vieni, nonna sorella, dai. Ti ho fatto male, eh. Ti faccio vedere. Vieni, vieni. Vediamo, dai. Ah! Ha tirato fuori la seconda lama anche lei. Mi sa che l'ho fatta arrabbiare e non vorrei dire niente. Ah! ok. Ah, così. Ah! Ah! Scappa, scappa, scappa. Ah, no, ho sbagliato. E sono andato proprio incontro mentre stava caricando. Oh, e para, dai. Ah, ho capito. Ah! Ah! Forza! Ah! questo lancia però pure la spada. Non è valido. Ah! Vai quadrato, vai quadrato. Vai così. Vai così. Ah! Un altro steam! Morirai come il ratto quale sei. Ah! Scansa, scansa. 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 Scansa, scansa. Così. Scansa, scansa. Ah! No, avevo finito la forza. Maledizione. Dove sei? Scansa. Bravo. Attacca ora. Scansa, scansa, scansa. Così. Scansa. Ah! No! bravo, così. Colpisci, colpisci. Scansa, scansa. 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 Cala, scansa. Ah! Ma beccate in pieno stavolta. Ah! Ah! Scansa, scansa. Scansa, scansa. Ah! Devo saltare. Un nuovo colpo. Eh! Vai. Cerca, 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 scalla, scassa. Ah! Scansa, scansa. Scansa così. Scansa. Scansa. Così, così, così. Grande, grande Cal. Vai. Colpisci Scansa Così Così No Sì Abbiamo fermato l'attacco No Un altro Ok Grande cal Vai vai Forza Scansa 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 Vai Colpisci Colpisci Scansa Scansa Scansiamo Scansario O no È veloce Ah No Scansa Scansa Non farelo subito Proprio ora Ah Mi serve uno team Vedi Aiutami Vedi Ah Vai Scansa 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 Vai Niente di grave Vai Questo è il colpo finale Vai che l'abbiamo sconfitta Vai 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 Sì L'abbiamo sconfitta La nona sorella Allora Ora Hai qualcosa ancora da ridire Vediamo Bella spada laser Che utilizza pure subito Fronte agli ostacoli Quando hai già perso te stesso Un arto è poca cosa Ah Sai Ero un Jedi Anch'io Farà un vero piacere Catturarti E vederti andare Spessi come tutti gli altri Aia Un secondo La seconda parte Dello scontro Aspetta di conoscere L'isolamento Le tortune Le mutilazioni E i tuoi amici Non ti lascerò toccarli Non puoi fermare L'impero Io posso fermare te Oh Grande Cal A posto Abbiamo scaraventato A giù Sì Abbiamo appena steso L'inquisitore Aspetta Uh Nostro cellaccio È ancora vivo Oh È bello Rivederti Ora dobbiamo andare Sire e Gris Ci aspettano Bene Andiamo Oh Nonna sorella Sconfitta Bene Allora signori Facciamo una cosa Sapete che vi dico Che oggi Anzi Vediamo un po' Trova l'astrum Su Datomir Dobbiamo andare Su Datomir Allora Signori Facciamo una cosa Io per oggi Salvo qui Salviamo un attimo Bene amici e amiche mie Allora stavo dicendo Visto che abbiamo sconfitto La nonna sorella Ed è stato uno scontro Abbastanza caruccio Alla fine abbiamo visto Solo quello In questa puntata Io mi fermerei Proprio qui Facciamo una puntata Proprio breve Mentre invece Il nuovo obiettivo Quello di trovare L'astrum Su Datomir Lo vedremo Nel prossimo episodio Che potrebbe essere Un pochettino più lungo Perché dobbiamo arrivare Mi sa Quella tomba Che era su Datomir Che diceva Non potevamo raggiungere Perché il salto Era troppo corto Ma ora che abbiamo La nuova abilità Del doppio salto Sicuramente Potremo farcela Quindi io vi invito A lasciare Mi piace Sotto a questo piccolo video Di commentarlo Se volete Ricordatevi di iscrivervi Al canale Youtube E Facebook Se non l'avete ancora fatto Di condividerli Sulle bacheche Dei vostri social Di dirlo a parenti Amici Conoscenti A chiunque vogliate Di farli iscrivere Al canale Noi ci vediamo Con il prossimo video E come sempre vi dico Come mi dice Di salutare Jaden Ciao a tutti Alla prossima